Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me, dalla mia felpa con le parolacce in finlandese e da un video in cui vi parlerò di uno dei migliori pezzi d'artiglieria del regio esercito italiano durante la seconda guerra mondiale. Per la precisione parliamo dell'obice da 75-18 modello 34, indubbiamente uno dei pezzi d'artiglieria migliori in dotazione al regio esercito italiano allo scoppio della seconda guerra mondiale. Un pezzo someggiabile, adatto ad essere razionalmente smontato in carichi trasportabili dai muli o addirittura anche a spalla dagli uomini. Un pezzo d'artiglieria leggero, efficace, uno dei migliori pezzi di accompagnamento della seconda guerra mondiale, molto probabilmente il miglior pezzo di accompagnamento per i nostri soldati durante il conflitto. Un pezzo d'artiglieria che fu montato anche sui semoventi da 75-18 che furono molto probabilmente i nostri migliori mezzi corazzati durante ripeto dal 40 al 43. Allora l'obice da 75-18 modello 34 era fabbricato dall'ansalto. Il calibro era da 75 millimetri, la lunghezza della canna ripeto era quella di 18 calibri. Il pezzo da 75, ah dimenticavo scusate, la fonte è nuovamente questo fascicolo della Curcio Editore. Eccolo qua sempre, ripeto, un'opera non più nuovissima perché risale alla fine degli anni 70 ma che rimane tuttora valida perché oggettivamente i dati tecnici e la storia di un pezzo d'artiglieria, di un equipaggiamento, di un materiale oggettivamente non cambia, rimane quella. Quindi i dati riferiti da quest'opera sono tuttora validi. Il pezzo da 75-18 someggiabile fu il primo dei nostri pezzi d'artiglieria di nuova concezione entrato in servizio dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale. Era un pezzo leggero, trainabile e someggiabile, ripeto, molto importante per un paese come il nostro che per la maggior parte è composto da colline e montagne. Ricordiamoci che all'epoca si prevedeva una guerra essenzialmente difensiva. Allora, ripeto, era un pezzo leggero, trenabile e someggiabile. Si riteneva possedesse tutte le caratteristiche richieste dalle moderne artiglierie divisionali. Aveva una grande mobilità che gli permetteva di seguire sempre e dovunque le fanterie. Una gittata massima da 9 a 10 chilometri. Un ampio settore di tiro orizzontale, 48 gradi, che corrispondeva a quello che era razionalmente possibile fare, ovvero sia un settore di tiro sull'affusto di 48 gradi. Insomma, garantisce di spostare rapidamente il pezzo verso bersagli più urgenti, diciamo. Aveva inoltre un ampio settore di tiro verticale da meno 10 a più 65. Questa è l'elevazione massima, come vedete. Il tiro verticale, insomma il tiro ad alzo elevato, serviva a battere il terreno antistante alle fanterie con tiro curvo e forti angoli di sito. La facilità di scomposizione in carichi individuali consentiva un ottimo someggio perché i carichi individuali non erano superiori ai 115-120 chili, cioè niente che tre o quattro uomini non potessero caricare con troppa difficoltà sul basto di un mulo. Molto caratteristico di quest'arma era l'affusto con le ruote in electron e ruote semipneumatiche. L'electron, il magnesio, signori, per dire ruote, cioè un metallo nobile pregiato come l'electron, come il magnesio. C'è roba che le ruote in magnesio furono usate nelle competizioni automobilistiche soltanto nel dopoguerra, per dire. Allora, dicevo, gli assali elastici a barra di torsione gli consentivano anche il traino bilanciato tramite un apposito trattore da montagna. C'erano anche appositi carri munizioni che erano state pure allestiti per il traino meccanico, ma ricordiamoci sempre una cosa, il nostro esercito non brillò mai propriamente per meccanizzazione e razionalizzazione dei trasporti. Inoltre c'erano anche le difficoltà produttive del cannone modello 34, dell'obice da 75-18 modello 34. C'erano dei gravi problemi. Perché? Perché fu adottato da alcune divisioni di fanteria, ma nel 1940 ne esistevano soltanto 114 esemplari. Sì, noi siamo scesi in guerra nel 1940 con 114 obici da 75-18. che erano praticamente gli unici pezzi moderni a nostra disposizione in mezzo alla marea di residuati bellici della prima guerra mondiale o di prede belliche austro-ungariche sempre della prima guerra mondiale. Vedi il famoso obice scoda da 65 che anche quello lì, poveretto, si fece tutta la guerra. Allora, tenete presente una cosa. Il dato agghiacciante, ripeto, di questa ottima arma è che nel 1940 ce n'erano soltanto 114 esemplari. Ne furono prodotti altri e indovinate un po' in totale. Quanti ne producemmo fino al settembre 42? 230. Cioè noi riuscimmo a produrre dal 38 diciamo fino al 1942 230 obici da 75-18. dopo Caporetto, grazie alla direzione dell'allora colonnello dall'olio, l'Italia riuscì a ripianare tutte le perdite d'artiglieria in sei mesi. Cioè in sei mesi la tanto esecrata Italietta liberale, l'Italietta buona niente, denigrata e derisa dal fascismo, aveva tirato fuori, aveva ripianato tutte le perdite di Caporetto e produceva pezzi d'artiglieria a pieno ritmo. Il corporativismo fascista dal 38 al 42 riuscì a produrre soltanto 230 obici da 75-18. Insomma signori, credo che ogni discussione sia inutile oggettivamente. Un'arma eccellente, un'arma razionale, un'arma ben costruita, un'arma estremamente apprezzata dai nostri artiglieri che ne fecero ottimo uso sia nel deserto sia in Grecia sia in Russia, anche se mettiamola così come cannone anticarro. In Russia il 75-18, poverino, faceva quello che poteva, faceva poco meglio del Böller da 47 mm di cui ho parlato in un video precedente. Fu impiegato il 75-18, oltre che essere montato anche sui nostri semoventi su scafo dei carri M, ne parlerò presto signori, abbiate pazienza, ho anche una vita. Tra ho chiesto a Laura di sposarmi e lei ha detto di sì, quindi scusate ma ecco va bene. Basta. Allora, il fatto è questo qui. Il 75-18, ripeto, fu impiegato ovunque. Libia, Grecia, Albania, Balcani, Russia e fornì buone prove. Ma erano pochi, erano troppo pochi. Cioè erano come dire disperatamente pochi. E l'industria italiana non fu mai in grado di tenere testa alle giuste richieste dell'esercito. Anche perché, nonostante le esigenze del riarmo italiano, molti esemplari furono anche venduti all'estero. Furono venduti in Portogallo, Venezuela, Bolivia. Mi pare di ricordare che furono venduti anche... qualcuno fu venduto anche alla Spagna, se non ricordo male, e furono proposti anche a Estonia, Lettonia, Lituania. Furono proposti anche alla Slovacchia. Ma a un certo punto si dovette fare buon viso a cattivo gioco e prendere a rifornire il regio esercito e a rinunciare alle esportazioni. Il progettista si chiamava Berlese, era un tenente colonnello e ne realizzò anche un modello con affusto diverso per il traino meccanizzato che ebbe anche questo un buon successo e fu anche questo molto molto apprezzato dai nostri soldati. Ogni tanto ne trovate qualcuno in giro usato come... per esempio ce n'è uno vicino a casa mia, c'è uno di questi cannoni vicino a casa mia in una chiesetta in un paese vicino a casa mia che viene utilizzato come monumento ai caduti. È un'arma, il 75-18 ripeto, è un'arma efficace, razionale, molto ben fatta, molto... un'ottima arma di accompagnamento per la fanteria, ma come sempre troppo pochi, ne avevamo troppo pochi, cioè rendiamoci conto, ne producemmo sì e no 230. Nel 1940 ne avevamo, ripeto, nel 1940 ne avevamo 114 esemplari in dotazione alle nostre divisioni. Nel 1942 i 75-18 erano diventati 230 in servizio in tutto l'esercito. Siamo sinceri, oggettivamente si tratta di numeri ridicoli, cioè di una desolante dimostrazione del fallimento della nostra industria. E ripeto, ripeto, nel 1917 dopo Caporetto l'industria italiana sotto la ferrea direzione dell'allora colonnello dell'olio, ripianò in sei mesi le perdite di pezzi d'artiglieria avuti a Caporetto. L'Italia fascista durante la seconda guerra mondiale riuscì a malapena a costruire 230 pezzi da 75-18. credo che ogni commento sia superfluo. Tutto qua. Quindi, cari signori, obice da 75-18 modello 34, eccolo qua di nuovo, una delle migliori armi della nostra artiglieria, un pezzo moderno, efficiente, ben riuscito e molto apprezzato sia dai soldati sia dai nostri avversari che quando potevano non si vergognavano assolutamente a catturarlo e a usarlo contro di noi. Un'arma che però, ripeto, non fu mai disponibile nella quantità necessaria. C'è altro da dire? Io direi no. Quindi, adesso signori, tocca a voi. Commentate qua sotto, commentate, commentate qua sotto. Come sempre, le vostre considerazioni sono benvenute e anzi indispensabili. Come sempre, aspetto che mi facciate sapere la vostra. Come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!